Siamo con Natogliani, pass partita contro Campobasso, oggi partita no, sembravate un'altra squadra rispetto a quella della semifinale di Supercoppa. Sì, oggi non so, magari sicuramente c'è un po' di tensione, all'inizio di campionato è la prima per tutti, abbiamo subito sicuramente la loro pressione, non siamo riusciti a provarci. Non sono andate le cose in attacco, quindi ci siamo riusciti in difesa, non siamo riusciti a girare la partita, sicuramente in merito a loro, ma devo lavorare, sicuramente c'è tanto da lavorare, senza buttare troppo la testa giù, perché la prima è una stagione unica, ma non è facile. Per te in particolare il bruciore doppio, perché era contro la tua squadra? Sì, però nel senso che sono persone che portano in cuore, portano sempre, perché poi quando si va nel campo è una partita, quindi persone che portano in cuore, ma quando si gioca si gioca, quindi sono contenta per loro, ma conseguentemente si pensano a avere le cose. Grazie mille. Grazie a voi.